Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo vlog! Finalmente! Spero che mi invidiate perché... Niente. Qua ci dovrebbe essere più luce. Allora, oggi è giovedì, 14 maggio. Spero che non sentite nessun rumore, perché ci sono molti rumori di fuori, vabbè. Quindi, oggi, non vi ho detto ancora cosa faccio per quello che faccio questo vlog. Allora, oggi viene su il Gabriele e quindi faremo i compiti per domani perché, vabbè, non ne abbiamo molti, però dobbiamo farli comunque e poi dobbiamo andare sotto casa mia perché c'è una specie di boschetto che si chiama Giongo e noi lo chiamiamo il Giongo quindi dobbiamo andare lì che ci sono tipo cascate, ruscelli e filmerò tutto. È tipo un'avventura nella foresta che poi dopo facciamo il giro al contrario e quindi facciamo quasi tutto il giro della montagna e a noi ci diverte fare tipo queste specie di avventure così e quindi, niente, adesso sono guardo l'orologio le due più o meno le due e verso un quarto, le tre o le tre, arriverebbe il Gabriele che adesso lo impariamo a chiamare Gà o Gabri e niente poi vi filmerò la mia avventura nel bosco ciao ciao allora stiamo andando speriamo che non ci sia le persone perché tipo che cazzo stengo facendo a questi se vedete che stoppo il video è perché ci sono le persone come vedete siamo nel bosco è un appassionato il video sì penso che non voleva mettere gli occhi saluta ciao e come vedete spero che non sentiate il vento perché sennò sarebbe una tragedia e niente stiamo andando al giungo dove vi ho parlato prima e quindi vi farò vedere un po' le casca c'è un insetto era una semplice mosca era un coso così era un coso così rosso se lo dice lui e niente quindi adesso andiamo alla cascata e vi farò vedere non è che il ciampo è cambiato così e niente dai quindi cioè andiamo alla cascata quindi filmerò e spero che sentiate perché già col vento sentite solo magari faccio le figure di merda non sente niente va bene dai ci vediamo dopo saluta ok adesso stiamo facendo la discesa ah no non è una foto c'è questo qua vedi che lampeggia la luce dice che è una foto vedi che è un lampeggio dice che è un video io che cazzo adesso mica guardo i due puntini del lago pro spero che ci vediate perché lui va piovando ma se io cammino così sei un deficiente non è che mica la devo fare si viene di qua che schifo mi è caduta una goccia di una goccia di qualcosa che schifo mi è andato sulla mano mi è caduta gli uccelli no no mi può fare io lo metto sui lo so lo metto anche la mano togli sto cazzo di coso togli sto cazzo di coso cioè volevo dire togliti un attimo oppure una minchia di foto il mio cuore è così bello i due friend dai fai in serio no non riesco non è nella mia natura vediamo il mio outfit anzi il suo outfit dopo lui mostrerà il mio aspetta il mio il suo outfit che maglietta è questa la duffa si vado a avermi comprata che cazzo ne so la fiera e questi? hanno inquadrato adesso sto andata a inquadrarli ah boh me l'hanno regalato un secolo fa no no devi cliccare qua devi prenderlo da qua no da qui allora questa collana quella che mi ha regalato mia nonna qua faccio prima di inquadrarmi no 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 non devi cliccare no 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 ho premuto a scialla sta lampeggiando la maglietta della cosa si chiama? non so lì tipo l'insolvido l'ho presa da chiavi e questi pantaloni l'ho presi di cinesi e le scarpe di mera Gabri le scarpe non fateci casa quello che dice io cosa ho detto non ho detto niente ci vediamo direttamente alla cascata ciao ok siamo arrivati alla cascata c'è una leggera brezza ma non che potrebbe entrare qui qua sarebbe infatti li hanno anche chiuso vabbè passiamo sotto la rete inculati questa dovrebbe essere la mini cascata ma dov'è la cascata? e qua dovrebbe essere lì ma dovrebbe essere lì Don Ugo Gabrie è di là la cascata tanto che lui non capisce più niente perché adesso hanno anche non sei quello che non vengono no perché hanno anche risboscato tutti gli alberi ah eccola adesso ve la faccio vedere da vicino spero che mi sentiate spero che mi sentiate sto giù comunque dell'acqua ma qual è la cascata? è lì mi fai una cosa sì ma se io entro mi bagno tutte le fanno Gabri c'è apposta lì i sassi dopo me la fai anche a me tanto lui che ho lui intanto compie azioni disumane ah bene dai adesso gli farò la foto questa è la cascata e lui stiamo io sono qua sul ciglio e lui intanto è andato là in fondo allora devo passare su queste rocce andare là per dire via andare dove c'è lui lui intanto che parla in spagnolo vabbè dai ci vediamo dopo perché è un'impresa molto ardua allora sono riuscita ad arrivare dove c'era lui perché non riesco a farmi lì ma dai certo poi lanciate così come è stata l'esperienza di fare che? andare là ti è piaciuto? no che? cioè nel senso ti piace te la cascata certo ma non è la prima volta che ci vado lo so che sono piccoli ah si sono sbottonati non pensate male non pensate male ne è solamente che si è sbottuto ma perché? un po' lontano ok lui è dietro ciao si non avvicinarti per la tre milionesima volta si fa il rincoglionito come vedete siamo nel bosco per andare per cosa ha detto questo qua per ritornare a casa mi sembri kung fu panda mi sembri kung fu panda come era I want a big kung fu panda come la cazza faccia ma fa stare dire i ciocchi ma se ci sono passata l'altro ieri ah no sembrava che si può finire la strada qua sopra spero che non mi cada lì guarda tutto il prato fiorato che strano questo qua sarebbe tipo tutto il prato fiorato sono di ferrovi che puttano d'aglio si che tengono lontani gli insetti se mi vedete rossa è perché sono sfinita che salto adesso vedi che quanti ce ne sono c'è tutto bianco tra un po' e guarda infatti il prato è diventato bianco te l'ho detto quindi ora ci facciamo una foto cioè questo qua sarebbe il prato fiorito è strafigo far così lui ci è rimasto male poverino curati e poi ne riparliamo citta il belico è bello far così guarda proviamo a farlo farlo qua che bello far così che schifo se calpettano tutti i poveri fiorellini che puttano d'aglio va bene io adesso non sto qua a filmare tutti i singoli passaggi che dobbiamo andare lassù vi faccio vedere quando siamo sbucati dal scusate quando saremmo sbucati devo andare di qua di qua ah vi faccio vedere il tote tipo qua fa vedere la talpa censuriamo qua e dice percorso numero 4 allora 4 percorso sensoriale c'è un verme che schifo guarda guarda che tenero che schifo guarda come si muove guarda che figata come si muove che strano c'è un'ondina si muove a onda lo so ecco adesso avete visto in Bern del parco regionale dei Colli di Bergamo si siamo a Bergamo e siamo al parco di Colli sensoriale perché dobbiamo usare l'olfatto per sentire i profumi della natura quindi ci vediamo addirittimamente fuori dal bosco ok prima la GoPro si era bloccata abbiamo dovuto togliere la memoria va bene speriamo che questo video vi sia piaciuto Gabri fai così cosa? faccio davanti di far così lasciate un like dai mettete lasciate un like allora lasciate un pollice in su si fa così così 3 facciamoli insieme 3, 2, 1 un like così e dopo vabbè devi coprire così no dopo e noi ci vediamo al prossimo vlog ciao